La questione è molto semplice, il tavolo di monitoraggio predisposto dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Finanze con la collaborazione delle Regioni ha certificato il deficit delle nostre aziende e ha certificato altresì in maniera assolutamente definitiva che tutto il deficit era assolutamente coperto con risorse interne come noi avevamo sempre detto e come era successo regolarmente anche negli anni scorsi. Il sistema sanitario Veneto è assolutamente sano da questo punto di vista perché copre al proprio interno tutte le possibilità di disavanzo create dalle varie ULS senza mai andare a chiedere fondi in particolare al Governo. Quindi da questo punto di vista le risorse che sono generate all'interno del Veneto con le varie manovre di bilancio sono state tra l'altro certificate in maniera assoluta e definitiva proprio dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Salute. Quindi i conti sono perfettamente e totalmente a posto e il risultato consolidato del 2008 vede il Veneto con un avanzo di bilancio di circa 15 milioni di euro e non con un deficit di 201 come è stato improvvidamente annunciato.